Ben ritrovati su Teletrading, facciamo un breve aggiornamento della situazione degli indici azionari italiani ed europei dal punto di vista tecnico con anche delle situazioni di ipercomprato, iperventuto ed eventuali proiezioni. Quindi partiamo dall'Italia e poi passiamo al DAX. Per quanto riguarda l'Italia, nel video precedente che potete trovare nella sezione dei video operativi, c'eravamo lasciati con l'SMPMEB in area 41.000 che aveva violato questa resistenza di medio periodo. Ecco, avevamo proposto come successivo livello obiettivo l'area 43.000, obiettivo che è stato pienamente raggiunto come vi avevamo preannunciato. Ecco, cosa fare in questo momento? Chiaramente intraprendere operazioni long in area 43.000, quindi nei pressi di un'importante resistenza che qua vedete indicata con una linea blu, è rischioso. Quindi per chi proprio volesse entrare long deve attendere una rottura decisa di quest'area. Viceversa è più probabile un possibile ripiegamento verso le resistenze violate, ora diventate i supporti, in particolare vediamo una possibile proiezione, ecco qui in rosso trovate una possibile proiezione, quindi è probabile che l'indice nelle prossime sedute possa riposarsi, ritracciare un attimino prima di provare a ripartire al rialzo. Per cui, ritornando all'indice, le indicazioni operative sono quelle di attendere il comportamento dell'indice in area 43.000, eventualmente l'obiettivo di una rottura quale potrebbe essere? Allora, come potete notare il range è di ampiezza da 39.500 a 43.000, sono circa 3.500 punti, quindi a un eventuale deciso, ripeto, deciso breakout dell'area 43.000, l'obiettivo rialzista potrebbe essere quello dell'area 47.000 circa. Quindi, perché? Un obiettivo di ampiezza pari circa al range in cui si trova attualmente il mercato. Viceversa, qualora dovesse mostrare debolezza in quest'area, è possibile che il mercato ritracci verso le linee rosse, che potete vedere in area 41 e 39.500, che sono ora, dei supporti possibili. Passiamo al DAX. Il DAX mostra una situazione di forza più marcata, perché, come potete vedere, non solo ha reagito fortemente sul supporto in area 6450, ma addirittura è andato a violare i massimi. Vediamo una possibile proiezione del DAX. Come potete vedere, le proiezioni per brevissimo periodo, quindi per le prossime sedute, sono di una possibile, non è detto, ma comunque possibile debolezza, con una situazione tra l'altro piuttosto di ipercomprato. Operativamente, il livello violato della resistenza segnalata precedentemente in area 7000 è ora un supporto, per cui siamo circa in area 7200, è possibile che il mercato ritracci in area 7000. Eventualmente, l'obiettivo rialzista, come può essere individuato? facciamo lo stesso ragionamento fatto con l'SMP MIB, quindi il range precedente era 7000, 6450, possiamo dire anche 6500, 500 di range, 500 di obiettivo potrebbe essere un eventuale obiettivo rialzista qualora il mercato partisse a rialzo. Per ulteriori approfondimenti potete scriverci alla mail di Teletrading, info-teletrading.tv e in ogni caso potete trovare puntualmente aggiornate le posizioni sull'indice nella rubrica Trading Azioni su Trendy.biz. Grazie e arrivederci.